Vedi Cesare qui c'è scritto tutto, approvato con deliberazione di giunta, approvato con determina dirigenziale 23 maggio 2012, quindi era previsto che se fosse assegnato il cantiere a questa era avrebbe dovuto essere finito, è 2013 dovrebbe essere finito, però se viene così viene una cosa molto bella, molto bella, il progetto è bello, adesso ripeti il profilo adesso vediamo se sono rose, il progetto è veramente bello, poi sono solo tre piani di loculi, termine previsto per l'ultima azione maggio 2014 e poi lì scattano le multe, in un contratto che si rispetta ci si mettono le multe